Semplicemente una breve replica rispetto alle considerazioni fatte precedente. Questa cosa, voglio ricordare che il Partito Democratico in più occasioni ha fatto le proposte sia in Commissione sia in Consiglio Comunale e le due cose possono camminare anche di vari mazzo, anche lui e lei ha ascoltato l'intervento fatto dall'assessore Casillo, il BUC, l'atto di diritto proposto in Consiglio Comunale, la presenza può venire nel punto di partenza di un articimento che lui ha chiesto anche a questo Consiglio Comunale e come a solito il Partito Democratico rispetto alle proposte non si è sottratto e in questo Consiglio Comunale ha fatto le proprie considerazioni. Le condizioni hanno una funzione comunque, ci vede, ci ragiona, esprimono i pareri, ma il luogo dove una forza politica esprime le proprie proposte, come applicamente le proposte di comunicazione rimane o comunque è solo il Consiglio Comunale. Noi riteniamo che ha fatto la proposta politica esprime e l'imposabile, il Consiglio Comunale si accercerà in merito alla nostra proposta. Allora, chiede, ehm, lo chiedete, lei ha ritenato la proposta di sospettare? Allora, chiede intervenire il Consigliere Maricato. Grazie. 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 rispondiamo sempre in maniera utile e trattata, che anche oggi in questo caso noi stiamo, con una indicazione precisa, credita, e che ci auguriamo che la maggioranza possa portare le indicazioni che vengono da parte. Per mettere in condizioni, in condizioni di trattito, se ne vediamo l'atto, ovviamente la donna, la donna, la donna, la donna, la donna, la e se le indicazioni non vengono da parte, ovviamente ci stregoleremo di notte. Grazie.